L'oratorio San Giovanni Bosco di Borgo Satollo spegne quest'anno 70 candeline e festeggia con una serie di appuntamenti che pongono al centro della riflessione il modo che Don Bosco aveva per stare in mezzo ai suoi giovani. Il primo ospite è stato Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, che martedì 18 gennaio ha portato la sua testimonianza a partire dal tema Non esistono ragazzi cattivi, storie di resurrezione dal carcere minorile. Siamo in un periodo in cui i fatti di cronaca ci inquietano, ci sconvolgono, in cui il mondo adulto, il mondo delle istituzioni si indigna e in qualche modo di fronte a queste situazioni vive un giudizio molto a volte sommario, ma molto netto, rigido. Ecco, l'invito oggi è a guardare anche questi episodi con lo sguardo adulto, con lo sguardo anche del Vangelo, di chissà non ovviamente assolvere, perché se le condotte sono sbagliate vanno in qualche modo perseguite, ma bisogna sicuramente anche avere quello sguardo educativo di chissà andare a capire i fenomeni, non solo a giudicarli. Il carcere, se è questo, è un luogo educativo. Se il carcere non è semplicemente un luogo dove punire, secondo la classica giustizia retributiva o la legge del taglione dell'Antico Testamento, se questo, il carcere, diventa un luogo educativo, allora è importante perché può davvero rilanciare il percorso di questi ragazzi. Questi ragazzi, che per la mentalità comune sono solo dei delinquenti, per lui sono ragazzi e basta, da amare, accogliere e sostenere nella ricerca della propria identità e umanità. Ovviamente il mondo adulto, il mondo delle istituzioni, deve sapere dare risorse, dare opportunità. Il ministro Cartabia, per esempio, venendo da noi in comunità la settimana scorsa, ha proprio detto questo, bisogna offrire tante opportunità. Il carcere stesso deve offrire tante chance a questi ragazzi. Non è possibile semplicemente stigmatizzare le loro condotte. Bisogna fare in modo che tutta la società civile, tutte le istituzioni convergano verso un orizzonte diverso, che sappia includere questi ragazzi e sappia portare loro anche a scelte di bene. Le storie dei ragazzi che l'autore incontra al Beccaria, il famoso carcere minorile di Milano, o che ospita nella sua comunità per minori in difficoltà, si intrecciano con la sua storia di uomo e di prete, in un legame che rende sempre più fecondo il cammino, un itinerario pedagogico, fatto di sfide e di rischi, ma altrettanto aperto a sorprendenti possibilità di cambiamento.